Al volo, Uncle Bulza, questo è il tested, 45 gradi, bella storia, 45 gradi, si notano, c'erano ricordi di querizzo dolce, presente quelle arrotolate, quelle delle bancherelle, insieme a notte di agruvi e notte verdi, guarda che mette un cubetto di ghiaccio, questo ha bisogno di aiuto, eccomi, io sono molto pratico, allora non è che abbia bisogno di aiuto, ha semplicemente un gin molto concentrato, adesso si stempera, viene fuori finalmente il suo bel ginetro, come vi ho già detto in tanti altri video, come spiego a quelli che vengono a fare i corsi con me, il rapporto gin col ghiaccio è molto intimo, intimo, quasi proprio da sesso, e per questo va ben gestito, mica cotica. Allora, questa sensazione un po' liquiriziosa che si percepiva all'inizio, si stempera, lascia spazio più la parte verde, la parte che ricorda il ginepro e insieme vai con gli agrumi, delicato, note però terrose, note però di radici, lo sto raccontando al volo, anche Val, anche Val, è un 45 gradi, Allora, questo è un gine americano, ma con un pensiero legato alla Toscana, c'è tutta una storia dietro, di cui se volete vi informate da soli, io non faccio quello che vi racconta in realtà la storia, io apro la bottiglia e vi dico se vale la pena o no comprarla, il mio lavoro, ragazzi, è un altro, io non sto qui a fare bla bla bla, io apro e dico, secondo quella che è la mia modestissima esperienza, se vale la pena ad aprirla, ok? In Romagna diciamo, fatti, non pugnetti, abbiamo sempre avuto questo detto qua, fin da ragazzini, quindi, i giochini li lasciamo fare agli altri, rimane ancora, si stempera, si stempera, ma rimane, bocca mi piace molto, perché è questa sensazione, appena liquiriziosa, cardamomo, ricordi speziati, freschi, ginepro, da grume, testa di là, sottofondo sempre un po' morbido, anche al naso ti ricorda questa dolcezza naturale, della liquiriziosa, non è il termine esatto, ma ricorda quelle rotole lì, come cazzo si chiamano, quelle lì che trovate nelle bancarelle, a quella nota lì, che me la porto sempre dietro, almeno quella per analogia, non conosco neanche la botanica, non so cosa ci sia dentro, lo guarderò dopo, lo bevo con voi insieme per la prima volta, qua ci vuole una tonica, va provata con una tonica neutra, al volo, eccoci, bene, con la tonica, le note grumate, vengono un po' più a galla, maggiore equilibrio, ecco la, il gioco, della nota liquiriziosa, che in tonica, si innesta perfettamente, ho usato questo al volo, tonica neutra, se ho usato una Thomas, diventa un po' più dura questa nota liquiriziosa, ho usato una nota tonica neutra, come insomma, meno impegnativa di una Thomas, gli dà quel tocco, sì, che ricorda un po' la liquirizia, ma liquirizia quella dolce, quella morbida, quella delle bancarelle, no? Gli agrumi sono più gentili, vengono a fare, allora questo è un gin che bevi molto bene in tonica, puro? No, io no, in tonica sì, in tonica per me tante roba, un gin che ha in tonica, vengono a fare tante sfumature, quindi in tonica lo trovi ancora più, allora è complesso, chiaramente perché tu da tecnico lo analizzi, quindi trovi la complessità anche da puro, ma in tonica, tu che sei un appassionato, quella complessità riesci a capirla meglio, quindi io ti suggerisco di berlo in tonica. A un negroni però gli darebbe quel quid con un buon vermut, ma anche un vermut, che ne so, un vermut tipo il classico carpano, che guardate, che è tanta roba, il carpano classico che trovate anche in certi supermercati, perché anche loro ormai sono entrati nei supermercati con quella lì, base classica, non dico l'antica formula, lascia stare, l'antica formula deve avere pura, in purezza, ma il vermut, il carpano, quello lì, il base che trovate a volte anche nei supermercati, gli fai un negroni con quello, inizia a diventare molto interessante questo giro, perché gli dà una larghezza maggiore. Agrumi, adesso questa parte di queriziosa si è stemperata, si è quasi sfaldata, regala soltanto un appoggio, regala un appoggio a quelle che sono da parte degli agrumi, delle note verdi, che ben adesso si stanno delineando con l'aiuto della tonica. Buono, buon gin, lascia in chiusura, in tonica, lascia questa notte, la notte è anche in purezza, ma in tonica si esalta di più una chiusura particolarmente amarognola, data dall'uso di agrumi, non so cosa abbiamo usato, vado a vedere adesso, lo bevo con voi per la prima volta. Comunque sia, interessante, ciao ragazzi.